E' purtroppo positivo il caso sospetto del Rizzoli, la notizia ci è giunta in questo momento, la persona arriva da Brescia, è un turista, è stato riscontrato positivo il tampone effettuato stamattina, ripeto la notizia ufficiosa, quindi attendiamo l'ufficialità di questo risponso per ufficialità, intendiamo che siano le autorità stesse ad annunciarlo, ma possiamo dirvi che effettivamente è il primo caso positivo riscontrato sull'isola. Era il 3 marzo del 2020, quando in diretta durante il TG News, Novo La TV annunciò il primo caso positivo sull'isola Rischia. Si trattava di un turista bresciano che nei giorni precedenti aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dalla moglie all'ospedale Rizzoli di L'Acquameno per accertamenti. Fu un'attesa lunghissima per l'esito del tampone effettuato perché i sintomi facevano pensare ad un possibile caso di coronavirus. Durante quelle ore di attesa ne furono dette e scritte un po' di tutti i colori, sono ricordi indelebili per chi ha vissuto quei momenti. Il turista bresciano alloggiava presso una struttura alberghiera del centro di Forio. Nel mentre Novo La TV annunciava il primo caso positivo in diretta e in anteprima, dopo il collegamento con Gennaro Savio proprio dall'esterno dell'ospedale Rizzoli, i carabinieri si presentavano proprio presso la struttura alberghiera che di fatto fu chiusa, mettendo in isolamento tutte le persone che si trovavano all'interno, turisti appartenenti allo stesso gruppo di viaggio e dipendenti. Si è reso necessario poi il mattino successivo il trasferimento dello sfortunato turista presso l'ospedale Cotugno di Napoli, che allora era l'unico centro covid della Campania, con l'ospedale Rizzoli che neanche immaginava di dover aprire un reparto covid da lì a poco. Lo stesso trasferimento fu molto complicato in ambulanza con Barella ad alto biocontenimento e con l'allora comandante della Guardia Costiera di Ischia, Andrea Meloni, costretto a viaggiare sul traghetto per dare un segnale di sicurezza a chi era a bordo e ai cittadini ischitani. Nei giorni immediatamente successivi fu necessario organizzare il trasferimento di tutti i turisti rimasti chiosi in albergo con autobus della Croce Rossa e con un'operazione molto complessa guidata dall'Asl Napoli Due Nord per mettere in sicurezza l'isola e gli stessi turisti. Il turista bresciano non infettò nessuno, né la moglie, né i compagni di viaggio o i dipendenti. Ancora oggi il mistero resta irrisolto. Da lì a poco però sarebbe arrivato anche il primo caso ischitano e via via tutti gli altri con l'apertura del reparto covid dell'ospedale Rizzoli e purtroppo anche con i primi morti. 86 casi positivi della prima ondata, poi l'isola covid free e ancora una nuova pesantissima ondata dopo l'estate con 1179 casi totali ad oggi. Altri tempi e altre dinamiche. Si pensi per esempio al numero di tamponi e la velocità con cui oggi vengono fatti rispetto ad allora. Tanto è cambiato un po' in tutti i settori. Ciò che forse è rimasta purtroppo invariata è la sensazione di non riuscire mai a vedere l'orizzonte. Il vaccino dovrebbe rappresentare la speranza eppure siamo oggi qui a parlare di nuove chiusure per assicurare una riapertura definitiva. Sì, ce lo avevano già detto un anno fa.